Se la guerra dei Dazi spaventa già oggi i mercati finanziari, provocando una seduta in profondo rosso qui a Wall Street, è figurarsi che cosa potrebbe accadere quando questa guerra diventerà una cosa seria. Perché diciamoci la verità, per adesso siamo ancora alle scaramucce iniziali. Risalendo all'inizio dell'anno abbiamo avuto da parte di Trump prima i super Dazi contro i pannelli solari made in China, poi quelli contro l'acciaio e l'alluminio, infine contro una serie di prodotti dove c'era anche un po' di alta tecnologia che spuntava, per esempio l'elettronica. A tutto questo la Cina sta rispondendo colpo su colpo e nelle ultime risposte cinesi compare un settore che certamente è vulnerabile, quello dell'agricoltura americana e gli agricoltori del Midwest, di stati come lo Iowa, sono dei grossi esportatori di cereali, soprattutto di soia, verso il mercato cinese. Quindi c'è effettivamente il timore che le rappresaglie cinesi possano fare del male. Ma attenzione, il capitolo forse più incisivo del protezionismo di Trump deve ancora arrivare, è atteso per questa settimana quando l'amministrazione Trump dovrebbe annunciare questa volta dei Dazi motivati dal furto di proprietà intellettuale che avviene sistematicamente in Cina. Per esempio il fatto che in molti settori i cinesi impongono agli investitori occidentali, che vanno a creare fabbriche in Cina, di scegliersi un partner locale al quale poi devono trasferire tutto il proprio know-how. Quindi una sorta di spionaggio industriale legalizzato. Bene, per reagire Trump questa volta stabilirà dei Dazi che colpiranno addirittura un migliaio di prodotti cinesi. E ancora una volta l'accento si sposterà non più tanto su produzioni di massa, su produzioni dove conta il basso costo del lavoro, ma invece sulle tecnologie avanzate. E quindi si entrerà davvero nel vivo di questo scontro tra le due superpotenze economiche del pianeta.